Oggi vi porto alla scoperta di una divertente commedia dal sapore teatrale diretta nel 1938 da Mastro Cinque che si intitola Voglio Vivere con Letizia. Conosciuto anche con il titolo Matrimonio Ideale, esce nelle sale nei primi mesi del 1938. Il protagonista è Bebe, un giovane ragazzo ricco appena rientrato da Oxford che i genitori vogliono far fidanzare con Letizia, figlia di un'aristocratica famiglia decaduta. Bebe però mette in atto un piano per verificare i reali sentimenti di Letizia per vedere se è interessata a lui oppure ai suoi soldi. Il soggetto e la sceneggiatura sono scritti da Mario Soldati e Giuseppe Guarino, ex ballerino, sceneggiatore e regista già dall'epoca del cinema muto e l'intreccio si basa su di un equivoco che è il vero e proprio motore scatenante di tutta l'azione. E la trama ricorda per certi versi il film di Mario Camerini, Darò un milione, tra l'altro sempre interpretato da Asia Norris. Il trio di protagonisti è dominato da Gino Cervi che fu definito dalla stampa dell'epoca troppo statico e legnoso per la sua interpretazione nel ruolo del protagonista. Cervi proveniva dal mondo del teatro, aveva calcato i più importanti palcoscenici italiani degli anni 30 ed esordisce al cinema nel 32 nel film di Gennaro Righelli d'aviazione L'Armata Azzurra. Raggiunge un buon successo di pubblico grazie ad Alessandro Blasetti in Aldebaram e, verso la fine degli anni 30, è l'interprete raffinato di tante commedie in fracca, come in una delle prime commedie all'ungherese del 1937 che si intitola Gli uomini non sono ingrati. Nel 1938 escono ben cinque film interpretati da Gino Cervi e la pellicola che chiude questa fortunata stagione è Ettore Fieramosca di Alessandro Blasetti, che gli dà un grandissimo successo di pubblico e di critica. Al suo fianco nel ruolo del cugino troviamo Umberto Melnati, anche gli attore proveniente dal teatro, ricordato soprattutto per i suoi grandi ruoli brillanti e per la sua recitazione a tratti convulsa. Era alla spalla di Vittorio De Siche in tanti film dei primi anni 30, come ad esempio Due cuori felici del 1932 oppure La canzone del sole del 1933. È ricordato anche nel film a manifesto della commedia di telefoni bianchi Mille lire al mese del 1939, a mio avviso una delle sue più importanti interpretazioni è sicuramente quella dell'ex attore del cinema muto Ettore Omeri, che va a salvare dal macero le vecchie pellicole nel bellissimo film di Luigi Comencini, La valigia dei sogni, del 1953, dove la sua interpretazione è in bilico tra il comico e il patetico. La letizia del film naturalmente è Asia Norris, la fidanzatina bionda d'Italia, in un ruolo molto ricorrente nella sua filmografia ed è degno di nota anche un attore, un caratterista poco ricordato del nostro cinema che è Guglielmo Barnabò. Interpreta nella sua lunga carriera ben 110 film e in queste commedie degli anni 30 e 40 compari quasi sempre con il ruolo di zio o padre. Esordisce come regista proprio in questo film Camillo Mastro 5, sebbene l'anno precedente in co-regia aveva diretto il film La regina della scala e ben presto si imporrà come uno dei più bravi e importanti registi di film comici e di commedia italiana. Negli anni 40 dirige pellicole come Biondo sotto chiave o I mariti e nel dopoguerra sperimenta con il cinema musicale in film come Atanasio, Cavallo Vanesio e Tarantella napoletana. Dirigerà anche molti film con protagonista Totò.